Dobbiamo farlo qui. Dobbiamo praticamente andare a sentire il cambiamento di questa variabile. In effetti ci torna utile perché dobbiamo settare se il sideNav content è aperto oppure no. Quindi ci può tornare utile. Quindi andiamo a iniettare l'out service uguale a inject di user profile service. A questo punto dobbiamo andare a sentire di questo. Andiamo a implementare l'on init. Nell'on init. Andiamo a implementarlo. Qualche perché non mi piace. Vis.outservice. Devo per forza riconvertirla in un observable. Allora facciamo così. Facciamo così. Così prendiamo. Quindi facciamo un out. User. Dollaro. Uguale. A questo. Poi. Prendiamo il bis.user. Dollaro. E facciamo questo. A questo punto qui facciamo user. E facciamo una subscribe. Quindi u. E faremo qualche cosa. Poi qui. Però. Vabbè. Questo qui è sempre in ascolto. Quindi mi può andar bene. If. If u. Intanto facciamo così. If u. Andiamo a iniettarci anche il router. Private router. Uguale a iniettarci anche il router. E quindi. If u. This.router. Navigate by url. E andiamo qua. Quindi se adesso io faccio. Barra sign in. Mi riporta nella home. Perfetto. Questo ci torna utile. Anche. Per nascondere il side nav. Questo è un boolean input. Quindi. Che possiamo fare. Qui l'abbiamo dichiarato. Pubblico. Pubblico. Qui facciamo un is. Is side. Com'è che lo chiamano? Materia. Side nav. Is side nav. Opened. Vabbè. Facciamo così. Uguale a computed. Quindi. Return. Punto. No. Out service. Sì. Non è un out service. Andiamo a rinominarlo. User. Profile. Service. Quindi. User. Profile. Service. Punto. Is logged. Allora. Se è logato. Diamo true. Altrimenti. Diamo false. Dovrebbe andare. Quindi. Qui. È uguale. A questo. Vediamo un po'. Ok. Andiamo ad aggiungerci. Anche. Il logout. Ok. Nel mat side nav. Ora. Nel mat side nav. Vediamo. Material. Angular. Ma. Mat side nav. Menu. Sample. Vediamo eh. Forse cercavi. Che ho sbagliato. Example. Vabbè. Angular. Material. Vediamo qui. Vediamo questo. Stackblitz. Vediamo. Vediamo. Vediamo cosa mi. Ah. Ma fa un. Mat list item. Vediamo come salta fuori. Carino. Andiamo a copiarci questo mat nav. Andiamo a prenderci. Questo codice. E lo mettiamo qua. Vediamo. Ok. Ovviamente il mat nav list. Dobbiamo importarlo. Quindi. Mat nav. Ovviamente non ce l'abbiamo. E quindi. Lo importiamo. Quindi qui. Dobbiamo importare. Mat list module. A questo punto. Qui ci abbiamo. Il click. Col parent menu. Show sub menu. Tanto facciamolo così. Poi vedremo. Un tibulia. Vabbè. Vale a forza. Ci serve anche il mat icon. Andiamo a importarci. Anche il mat icon. Mat icon. Eh. Ovviamente. Se prima non converto. L'icon. Eccolo qua. Mat icon. Module. Magari. Eccolo qui. Mat icon module. Perfetto. L'NG class. Facciamo così. Common module. Ok. List expanded pure. Ok. Non è proprio uno degli esempi. Migliori mi sa. E anche. Show sub menu. E infine. List showing. Uguale a false. Vediamo. Salviamo il tutto. E andiamo a vedere. Quello che non funziona. Perché non funziona? Span. Ah. Qui c'è il full width. Andiamo a vedere un attimo l'esempio. Da cui abbiamo scopiazzato sta cosa. Eccolo qua. Prendiamo tutto. E lo mettiamo nell'SCSS. Andiamo a vedere se adesso funziona. Vabbè. Questo. Funzionava anche prima. Andiamo a vedere il nostro. Anche sempre. Il toolbar. Qui ha messo. La toolbar. Ok. No. Facciamo che noi. Dai. Andiamo a metterla anche noi. Non mi piace sta cosa. Quindi mettiamo la toolbar. Quindi. Andiamo a importare anche mat. Toolbar. Ovviamente non ce l'ho. Andiamo a importarlo. Angular. Material. Toolbar. Mat. Toolbar. Toolbar. E lo andiamo a importare qua. Perfetto. Andiamo a vedere se c'è la toolbar. Nell'esempio c'era. E nel mio ovviamente. Non c'è. Il key. Example toolbar. Andiamo a vedere. Ah beh. Giusto. È chiaro. Ti sto dicendo di fare un absolute con top. Facciamolo di 4. Eccola la toolbar. Quindi facciamo la fissa di 200 pixel. Vediamo un po'. È troppo. Vediamo quanto è alto questo. È di 64 pixel. Quindi. Qui ci mettiamo 64. Vediamo. Ok. Adesso già. Inizia a prendere forma. Qui. Non vedo. Non vedo. Il side nav. Ora. A prescindere che il log out lo metteremo qua. Ah. Però. Perché. Qui lo fa vedere. Qui no. Perché la toolbar qui. Non mi piace molto. A parte che non mi piace anche questo bottone. È fatto così. È proprio brutto. Vabbè. Tanto. Qui c'è il subnested. Facciamo una cosa. Allora. Andiamo qui. Qui c'è il nested menu. Parent menu. Qui si espande. E qui facciamo un bel. Questo è il submenu. Ok. Quindi ci mettiamo un altro qua sotto. Facciamo. Log out. Oppure sign out. Andiamo a togliere via questo submenu. Perfetto. Sum. La grafica è proprio brutta. Ma è orrenda. On. Sign. Out. Andiamo a creare. Questo. I punti void. E qui andiamo a. User profile service. Punto. Sign out. Questo metodo. E così centralizziamo tutto quello che riguarda il profilo qua dentro. Quindi. Punto. Punto. Sign out. Qui c'è una promise. Quindi facciamo. Questo metodo è asincrono. E qui facciamo. Una wait. Dopo aver fatto il sign out. Andiamo. Andiamo a inettarci anche il router. Private router. Igual a inject. Router. Eccolo qui. Quindi facciamo il sign out. This. Punto. Router. Punto. Navigate. By url. E lo mandiamo. Al sign. In. Andiamo. A fare un po' di salvataggi. Con sign out. Che. Eccolo qua. Non ho salvato questo. E quindi adesso. Se faccio sign out. Mi ha riportato qui. Perfetto. Ora. È giusto. Dobbiamo nascondere sia la toolbar. E sia. Allora. La toolbar. Qui. La nascondiamo. Not. Sales logged. Questo è il nav list. Questo è il submenu. Facciamo un'altra variabile. Allora. Il site nav opened. In realtà. Questo. Ci dà soltanto. Sales logged. Quindi. Però abbiamo fatto questo computed. Possiamo chiamarlo. Is logged. Allora. Qui. Is logged. Piocciola. If. Allora. Se è loggato. Facciamo vedere la toolbar. Altrimenti. La nascondiamo. Allora. Ok. E. La toolbar. È nascosta. Ovviamente. Il main nav container. L'abbiamo impostato. Con l'absoluto top 24. Quindi. Facciamo un'altra classe. Qui. Che andremo a sfruttare. E. Qui dentro. And. And. Is logged. Chiocciola. Chiocciola. Questo. Quindi. Se è loggato. Fa un top del 64. altrimenti mettiamo 0 quindi in questo momento è 0 se mi loggo però non vedo la toolbar perché ci devo metterci qui un ng class uguale islogged l'abbiamo chiamato così no? islogged e due punti islogged adesso andiamo a vedere perfetto, se adesso mi sloggo oh e questo è il primo passo ora dobbiamo nascondere anche questo menu ci fa vedere questa cosa qui ora qui ci fa vedere l'opened ma nascondiamo anche questo islogged e se è logato fa vedere questo però posso dirvi non è che mi piace granché questo possiamo invece tirare fuori questo anzi possiamo proprio fare un unico if e mettere il router outlet che ho la s fuori quindi lo mettiamo qui così non ci abbiamo lo scheletro perfetto ora sistemiamo un attimo questa pagina di login allora questo ci si viveva per testa possiamo cancellarlo questo abbiamo creato questo ma non ci serve più quindi cancelliamo questo perfetto lo vedo qui a questo punto sistemiamo un attimino la grafica qua questo possiamo toglierlo questo possiamo toglierlo allora qui facciamo questo div quindi questa graffa arriva da sign in io farei così v-full v- quindi se qui ci metto hscreen qui ci metto vscreen e andiamo a salvare però ah aspetta block quindi adesso ce l'abbiamo tutto rosso se io dico flex vediamo è sempre rosso quindi item center justify center vediamo un po' e l'abbiamo centrato ottimo ora però questo google qui quindi questo qui facciamo un bel flex flex row item center justify center vediamo da e giustamente sto confondendo le cose facciamo un call quindi il rosso lo togliamo magari ci mettiamo uno sfondo quindi forgot your password io direi che possiamo metterlo qua vediamo intanto perché questo qui è un flex no dobbiamo metterlo qua dentro però facciamo un altro div lo mettiamo qui e facciamo flex flex row item center justify justify facciamo un between ovviamente adesso ci do dei margini che qui magari ci mettiamo un bel margine facciamo di tre però qui devo essere sincero bisogna mettere un'altra scritta for sign in with andiamo for sign in with se io lo metto come call però così è centrato quindi se io qui possiamo dirgli intanto di prendere tutto lo spazio quindi adesso me lo sposta esatto però gli diciamo un text center vediamo e ci mettiamo class flex flex row v-full quindi questo quindi se io ci metto un border border solid border diciamo nero intanto adesso dovrei vedere la riga però abbiamo fatto h-1 vediamo vediamo un po' e v-full qui gli diamo di un pixel quindi salta fuori la righina magari già che ci siamo facciamo uno slate di 400 vediamo troppo 100 diciamo così mettiamoli a fianco sennò ogni volta devo vediamo allora allora slate è qui però dobbiamo dirgli item center perché l'ha messo giù l'item center l'ha messo giù invece lo vorrei al centro justify center perché non l'ha messo al centro l'ha messo tutto quanto sotto ah vedi ora che ho capito allora e questo c'è il margine quindi c'è un margine o c'è un sì c'è un margine non è b 0 ancora ce l'ho sì continua ad averlo perché c'è il margine 0 margin bot ah lo mette matt tipography lo mette lui però possiamo fare così 12 pixel lo faccio così ce l'ho al centro adesso prendo questo e lo replico ce l'ho così ovviamente qui overflow eh white space no wrap hm e magari un mx 3 facciamo un px3 hm ovviamente se lo restringo ah text gray 700 andiamo con un 100 ora andiamo qua e questo facciamo eh eh allora qui abbiamo il sign in se io mi faccio così qui mi logo però prima di loggarmi questo è proprio brutto bisogna che lo sistemiamo e so vi un logg che no 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 Grazie.